Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di TG Lercio per Amref, cominciamo subito con le notizie del giorno. Papa Francesco in visita in Africa, sia al preservativo ma solo durante i preliminari. La frase non sono razzista ma è candidata al premio Nobel per la pace. Quel negro l'abbiamo visto prima noi, rissa fra Forza Nuova e Casa Pound, i ragazzi feriti 88 in totale, sono stati immediatamente trasportati al Policlinico Gemelli di Roma. Il primario di chirurgia ha spiegato che ognuno di loro rimane nelle condizioni gravi di sempre. Profughi siriani a Monaco, Matteo Salvini protesta, rubano il lavoro ai nostri immigrati in Germania. Cinisello Balsamo, pronta a ospitare i migranti ma loro costruiscono barricate pur di non andarci. Di Maio rivela ONG pagate per salvare solo migranti che votano PD. Un marinaio di una ONG che ha chiesto di restare anonimo ha confermato quanto sostenuto da Di Maio. Quando ci avviciniamo una nave carica di migranti chiediamo per prima cosa la loro intenzione di voto e poi decidiamo se procedere al salvataggio. Se dicono di parteggiare per il PD interveniamo, altrimenti giriamo il timone della loro imbarcazione in direzione di Genova, di Marina, di Bibona o di Malindi o di qualsiasi altra tra le residenze di Beppe Grillo. Ma è arrivata un'ultima notizia proprio in questo momento, esatto, migranti militanti della Lega Nord inaugurano i giochi confrontiere. E per oggi è tutto per questa edizione, ci vediamo in un'altra circostanza. Grazie per averci seguito, arrivederci da Giobbe Covatta per TG Lercio.